Se la volete vincere una playstation 5 gratis Chi riesce a mangiare una parigina classica di 3,8 kg si porta a casa la playstation 5 gratis La regalo io Se riuscite a mangiare una tiglia intera di 9 pezzi in 30 minuti La sfida è valida dal lunedì al giovedì Con un massimo di 3 concorrenti al giorno Vi faccio vedere gli ingredienti che usiamo per fare la parigina classica Non c'è trucco, non c'è inganno La nostra parigina classica Se vuoi vincere una playstation 5 Devi riuscire a mangiare una placca di parigina classica per intera In 30 minuti Ragazzi andiamo al peso Abbiamo tolto la tara della placca Sono 3,8 kg di parigina classica C'è un personaggio capace di mangiare una placca intera Per vincere la playstation 5 Come on Abbiamo con noi il primo sfilante Con noi oggi c'è Luigi Luigi ma tu la vuoi buttare a casa la playstation 5? Si per i miei figli E in 30 minuti devi mangiare tutta la parigina Come on ce la facciamo Ce la fai? E fammi per i rifiuti E io nel frattempo ti manovro con il joystick Hai capito? Vai vai L1, L2, triangolo Vai vai Fammi per i rifiuti Ce la fai? In 30 minuti a mangiarla tutta È calda? È fredda? Come questa pancia? È bollente È buona? Ha sapore Lo spettacolo Oh ma che l'è? Ma che l'è? Ma che l'è? Il vidro è su di tutto E tu dici Ma io la faccio fuori in da un attimo Ma della vita Che pure la 30 minuti Sono passata solo 19 minuti Hai mangiato Cinque fette Quasi cinque fette di parigine E il melone è cresciuto Quando non ce la fai più Stai scoppiando Stai scoppiando Non ce la fai più Ma dimmi una cosa Ti arrendi? Mi arrendo Mi arrendo Mi dispiace Luigi non porta la Playstation a casa Vi aspettiamo dalla Parigina Brunè Piazzale Filippo Brunelleschi 26 da lunedì al giovedì Massimo tre concorrenti Ragazzi Luigi non ha vinto la Playstation Ma siamo dei figli da casa Che casino Che io stammatino Quando hai scelto Dai Papà la Playstation La porti a casa Però mi dà 20 euro Per la teglia di parigina Queste qua Te le mettono in cortone Da sport Le porti a casa Va bene Almeno ai tuoi figli Non ci porti la Playstation Ma ci porti 4 pezzi di parigina classica Quattro è un peso Un peso Dove vuoi? Caccia via E siamo lì Vado a mangiare tutta la parigina In 30 minuti Però eh Vi voglio ricordare Che se non riuscite a vincere la sfida Mi dovete dare solo 20 euro Per la teglia di parigina Voi a me E la Playstation La tengo con me Al prossimo sfidante Grazie e vi aspetto